Va bene, fate i bravi, una e due faccia da birichine, tutte e due, una più dell'altra, lei di più, però anche tu, ciao, forse ci vediamo dopo se mi lasciano parlare Torna allo stadio? Come? Torna allo stadio? Sì, con Iudicio, perché ho anche altre cose da fare Io l'aspetto qua, non mi muovo e poi facciamo un secondo round, nel frattempo faccio un paio di giri Corietto, tra 40 minuti vi facciamo entrare, quindi per uno che ha la mia età, ha 56 anni, 62 pressioni E se ne ha due più di me 72 pressioni, sì, però me ne sento 35 È vero, sono disposto a dire